Hashtag Progetti 2016 è lo slogan scelto dal Comune di Fano per lanciare un nuovo gruppo di lavoro interno all'amministrazione comunale che entro il 31-12 dovrà studiare e preparare dei progetti necessari ad intercettare tutti i possibili finanziamenti che nel tempo potrebbero pervenire dalla Regione, dal Governo o dai fondi europei. Sono stati presi persone da anche altri uffici, viabilità urbanistica, che daranno una mano al gruppo di lavoro e quindi all'ufficio tecnico del Comune di Fano che ha già lavorato molto bene in quest'ultimo anno e a cui chiediamo uno sforzo in più per arrivare e raggiungere questo obiettivo. Il mio assessore ai lavori pubblici Cristian Fanisi questa mattina ha illustrato gran parte delle opere in atto e in programma insieme al sindaco Seri e al dirigente Giangolini. Sono stati aggiudicati i lavori per lo spostamento della scuola materna da Ponte Sasso a Torrette e verranno affidati quelli per il recupero dell'edificio dell'ex genio marittimo al porto di Fano per circa 70 mila euro. La struttura diventerà un ufficio IAT, un punto di informazione della provincia all'ente che finanzierà l'intervento. Oggi pomeriggio invece è stato approvato un progetto per 108 mila euro che riguarda le scogliere di Gimarra e quindi per la difesa della costa. Per la strada delle barche invece c'è una buona notizia. Mentre fino a ieri i soldi per la strada delle barche erano vincolati ad avere un progetto esecutivo entro il 31-12-2015, la Regione, anche su nostra indicazione, ha spostato quei soldi e li ha messi in un altro capitolo di spesa per cui avremo più tempo per realizzare l'opera e per spendere tutti i soldi che l'Europa ci ha dato. Proseguono in maniera spedita anche i lavori negli interquartieri, opera che si spera possa essere conclusa entro il 2016. Oggi, notizia di oggi, è stato creato un bypass in Via della Trave, all'altezza di Via Ligure, quindi nel quartiere Poderino, Via della Trave. Questo bypass servirà perché si stanno facendo i lavori di realizzazione della rotatoria su Via della Trave. Speriamo di raggiungere la fine del progetto entro un brevissimo tempo.